Buongiorno, oggi vi vorrei vedere il catalogo di campagna 17 di Avon che come vedete dalla copertina la maggior concentrazione è sulla color trend in cui c'è questo mascara che lo potete prendere a soli 2,50€ e invece dietro vediamo il fantastico e mitico trattamento senza risciacquo per tutti i tipi di capelli all'olio d'argan a soli 3,95€ per capelli disidratati secchi questo va bene ve lo consiglio se avete capelli medio-lunghi questo va benissimo perché io lo utilizzo perché ho dei capelli sopra le spalle sotto il collo ed è perfetto dove c'è il collo, all'altezza del collo ed è perfetto lascia i capelli morbidissimi come seta veramente ottimo e poi scopriamo vabbè allora prima di parlare di color trend vi ricordo che c'è l'ultima tappa del programma fedeltà che già ne abbiamo parlato anche in anteprima per chi ha visto il video per chi no ve lo ripeto di nuovo c'è la terza tappa che dovete acquistare l'avon care 3 in 1 detergente tonico più idratante più la matita glimmer sticchia scelta tra le 5 tonalità e poi inserire i 6,95 della mantella questo vi dico che anche se non volete acquistare la mantella anche se non avete seguito è pure una fedeltà acquistatele magari 2,3,7 perché le matite sono buone può 0,50 dove le trovate parliamo di color trend allora solo che c'è un problema perché nella copertina dice 2,50 qui dice 1,95 non lo so quindi vi aggiornerò se c'è qualcosa di errato comunque qui dice ordino un prodotto a scelta da pagina 4 a 13 cioè nella sezione color trend e fra un ulteriore sconto di 2 euro sul mascara boss hit pagandola a soli 1,95 quindi non so se però penso sì che è 2,50 forse hanno sbagliato loro e allora questo è un mascara volumizzante intorno a intorno a intorno a black se volete acquistarlo separatamente costa 3,95 comunque ritornano le matite queste matite ombretto non retraibili i smalti a 1,95 due matite insomma gli ombretti gloss rossetti fondotinta correttori allora invece da pagina 15 a 25 parliamo di fragranze come vedete c'è il faraway da 50 ml a 13,95 poi abbiamo queste a 14,95 l'uno queste a 10,95 l'uno queste a 8,95 l'uno questa a 21,95 sempre l'uno sempre l'uno 13,95 invece queste per l'uomo invece da pagina da pagina 27 a 37 parliamo di agno cosa c'è di offerta di agno? ordinando la crema Reversalist potrà averne un'altra 8,95 stessa cosa per la platinum stessa cosa per la num itale e per e basta poi invece pagina 32 e 33 c'è questa offerta due prodotti a soli 19,95 cioè detergente e contorno occhi quindi contorno occhi anti età in base alla vostra età avete sempre il detergente corretto e contorno occhi invece in questa pagina ordinando un prodotto a pagina 34 e 35 avrà un altro risconto sulla crema rimodellante effetto rostante infiniti lift e la pagate a 7,95 poi altre offertine ma invece a pagina 38 e 39 si parla di BB cream solution quella classica diciamo non è quella matte che la potete prendere a 8,95 se aggiungete un euro potete prendere il di euro l'on fior di loto questo vanchero oppure se aggiungete due euro c'è la mousse al burro di carità africano e tartufo oppure se aggiungete tre euro potete prendervi la crema per i piedi rivitalizzante giusto? no idratante alla noce di macadamia quindi createvi vostro set e vedetevela voi invece a pagina 46 e 47 c'è un'offerta della clear skin se acquistate un prodotto clear skin potete avere uno sconto sulle vacuomedoni lo pagate a 1,95 invece a pagina 71 no pagina 49 scusate c'è questo set della vonchiere che è la nuova linea che si chiama intensive relief che è una linea che va bene per la pelle ultra secca per pelle anche disidratata è un complesso emoliente e nutriente per ottenere un sollievo e anche per la pelle diciamo arrossata se non sbaglio per prevenire la secchezza non ricordo dove l'ho letta però l'ho letta in qualche parte forse nell'anteprima comunque 5 volte più l'idratazione tutto il set 10,95 quindi veramente un bel risparmio c'è la crema corpo quella per le mani e l'amoliente labbra poi ah poi c'è un'altra offerta che io non avevo visto allora un correttore dell'idia flores costa 4,95 invece loro vi danno l'opportunità di prenderne due a 7,90€ per la cc cream invece una 8,95€ mentre due è 12,90€ quindi avete la possibilità anche di provarle io l'avevo vista questa offerta ma non avevo detto vabbè forse saranno offerte così invece adesso leggendo invece ora leggendo sto vedendo che l'offerta eccoci qui scusate allora invece a pagina 70-71 abbiamo l'offerta Avon Plus cioè tra i prodotti a un prezzo veramente vantaggioso in questo caso ci sono le Avon Glow cioè le perle di terra solare effetto abbronzato 3 terre quindi per carnagione media e scura quindi fate la scelta voi a soli 18,95€ c'è un'offerta da non perdere veramente però quando sì sì vabbè poi abbiamo le solite cose soliti trucchini altra offertina quindi siamo a pagina 80-77 il set è perfetto per le tue unghie 3 prodotti a soli 9,95€ cosa c'è? Nile Expert indurente antisfaldature il sopra smalto finitura satinata peach e la penna correttiva ve li consiglio tutti e due perché questi due li ho provati e mi sono davvero veramente bene lo usavo questo sia come base sia come rinforzante appunto che fa il suo lavoro e anche come top coach cioè veramente bello la penna correttiva mi ci trovo bene tutti e tre 9,95€ invece ci troviamo a pagina 90-91 che ci sono le matite queste super shock una 8,95€ due 13,90€ veramente ottime matite altra offerta pagina 100-101 di odoranti di odoranti di odorolonna anti-sodorola sfera 1-3,52€ 4,90€ poi poi invece qui abbiamo l'insertino che trovate nel catalogo vedete al centro prendine 2 al prezzo di 1 allora ligeria e bici abbigliamento un pensiero per te speciale acquista 2 articoli al prezzo di 1 in queste fantastiche in queste speciali pagine vedi i dettagli all'interno ok due reggiseni cioè questi due 14,95€ oppure questi due 9,95€ poi abbiamo due pezzi a scelta la guaina i short modellanti oppure gli slip 12,95€ oppure due bici uguali acquistano i due uguali a 9,95€ anche qui 9,95€ anche qui 9,95€ stessa cosa qua invece due capi a scelta 21,95€ invece qua due leggings 16,95€ anche qui due prodotti a scelta 9,95€ io li avevo però li ho ordinati ma arriveranno perché me non ho scritto spediremo quindi peccato perché sennò ve li ve li faccio vedere poi c'è vabbè la linea diciamo del catalogo casa scontata coppia di federe 4 federe si 7 da 4 24€ 100% cotone oppure c'è la coppia in solo matrimoniali intercambiabili 49€ quello invece di sopra 54€ poi ci abbiamo tantissimi sconti da pagina 148 a 153 abbiamo gli affari volontà un'offerta veramente vantaggiosa uno shampoo più una maschera all'olio d'arganne del marocco a soli 5€ veramente ottimo infatti questa offerta non me la lascerò sfuggire soprattutto per la maschera perché lascia già due tre lavaggi e lascia capelli veramente morbidi poi vabbè le colorazioni a 7,95 un'altra offertina per i bambini ogni prodotto natural sordinato pagina 166 167 avrà uno sconto di 1€ su uno di questi graziosi prodotti poi la coppia perfetta due prodotti scelto a 7,90 cioè per i shampoo natural da 700 ml oppure per le creme detergenti di natural herbal da 6€ oppure prodotti natural per i corpo spray balsami essenziali insomma a 6€ due prodotti stessa cosa per i piedi footworks 6€ e 52 prodotti bagnoscuma da 500 ml 7,92 anche per i bagnoscuma senses 2,6€ e 50 e poi le creme avonquer no avonquer le creme diciamo un guar al profumo a 3,95 l'uno e niente questo fatalo è finito spero che le offertine siano state di vostro accadimento e ci rivedremo al catalogo di campagna 17 ciao ciao ciao